Nuova udienza in Tribunale a Pescara sulla tragedia di Rigopiano, la seguita in diretta sulla pagina Facebook di Reteotto Luca Pompei che adesso è in diretta con noi. Buon pomeriggio Luca, cosa ha caratterizzato questa udienza? Un po' era stato già preannunciato, intanto buongiorno a te Gigliola, buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Nei giorni scorsi era giunta una richiesta del collegio dei periti del Tribunale che si sta occupando dell'analisi di tutta una serie di incartamenti e documenti per rispondere a una serie di quesiti posti, di avere una proroga di 90 giorni ancora necessari per poter dare un quadro e fornire una relazione più puntuale da questo punto di vista. Inoltre il collegio dei periti ha chiesto che venisse aggiunto lo staffo una quarta figura e questa figura è il professor Giovanni Menduni che questa mattina ha giurato davanti al Gianluca Sarandrea che dunque andrà a costituire una nuova forza all'interno di questo collegio di periti. Una proroga che sebbene sia stata accettata dal Tribunale non è stata altrettanto fatta da parte della Procura e delle parti civili che si sono opposte a questa proroga chiedendo in sostanza ha un tempo limitato di 30 giorni perché comunque c'è la scura della prescrizione all'orizzonte e quindi da questo punto di vista bisogna fare in fretta ma il giudice Sarandrea ha detto che comunque inevitabilmente fra 30 giorni sarà costretto a dare un'ulteriore proroga di altri 30 giorni per cui va bene questa proroga di 90. Altri elementi Gigliola c'era un solo imputato tra i 30 che aveva scelto il rito ordinario era l'ex sindaco di Farindola Antonio De Vico che però insomma si è adeguato in qualche modo a quello che hanno già scelto gli altri imputati. Quindi il rito abbreviato anche per Antonio De Vico, il suo legale Marco Spagnolo ha anche nominato un consulente di parte, il professor Leo Adamoli e poi tra le altre notizie da dare rispetto a questa udienza di stamane la memoria presentata dal comitato ai parenti delle vittime, una memoria che tende a sottolineare e a focalizzare l'attenzione del Tribunale su due quesiti in particolare posti alla perizia ovvero quelli della prevenzione del rischio e della gestione delle emergenze nel pieno rispetto delle leggi e di tenere da parte in qualche modo la famosa teoria della scossa di terremoto che avrebbe provocato la valanga. Su quella ha ribadito il portavoce del comitato Gianluca Tanda ormai in molti si sono espressi. A noi ci interessa sapere, ha ricordato Tanda, se chi poteva fare qualcosa per salvare i nostri familiari l'ha fatto o meno, se non l'ha fatto deve rispondere ovviamente di questo. La prossima udienza, Gigliola, a questo punto vista la proroga accettata dal Tribunale per il 29 aprile alle ore e dieci e in quella occasione sapremo ovviamente di più rispetto al corposo lavoro effettuato dallo staff dei periti che ricordiamo è composto dai professori Claudio e Marco Di Prisco da Daniele Bocchiola e da oggi anche dal professore Giovanni Menduni. Se non hai domande ti restituisco le linee, Gigliola.